Devo dire una notizia sicuramente molto positiva per il Comune di Cartoceto, quella che c'è pervenuta al Ministero delle Economie e Finanze per ciò che riguarda la concessione di spazi finanziari sulla base del dettato della legge di bilancio dello Stato che dava la possibilità ai comuni di richiedere entro il 20 febbraio scorso la richiesta di capacità di spesa di quelli che sono i cosiddetti spazi finanziari per poter poi realizzare delle opere pubbliche. Nello specifico il Comune di Cartoceto ha richiesto questi spazi finanziari per un totale di 318 mila euro di cui 167 per terminare definitivamente i lavori di realizzazione della nuova scuola dell'infanzia di Lucrezia e invece altri 151 mila euro per proseguire con le opere di messa in sicurezza e di ricostruzione delle mura urbiche del capoluogo. E' bene specificare appunto che non si tratta di contributi ma soltanto di capacità di spesa in attuazione del patto nazionale verticale che i comuni però potranno avere a disposizione e in particolare per ciò che riguarda Cartoceto per i 167 mila euro verrà acceso un mutuo mentre per i 151 mila euro si tratterà di poter spendere l'avanzo d'amministrazione. Colgo l'occasione anche per ringraziare su questa vicenda la particolare attenzione che è stata riservata dal consigliere regionale Mirko Carloni che mi ha seguito particolarmente la vicenda presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze sin dall'inizio. E diciamo che per Cartoceto insomma è sicuramente una bella notizia che dà la possibilità per ciò che riguarda la scuola dell'infanzia di portare a compimento una importantissima opera pubblica che fa parte delle priorità programmatiche dell'amministrazione comunale e dall'altro per ciò che riguarda invece i 151 mila euro di proseguire come detto l'opera di messa in sicurezza delle mura urbiche del capoluogo. E anche qui si tratta ovviamente di un punto programmatico fondamentale per l'amministrazione di Cartoceto.